Ciao tesorine! Oggi voglio mostrarvi alcuni prodotti che mi sono stati prestati, perché poi dovrò restituirli, dall'azienda Iconica. Non so se conoscete questo marchio, io sinceramente non ero a conoscenza fino a qualche tempo fa e praticamente è un'azienda che crea dei bijoux, della bigiotteria, però molto curata, molto ben fatta. Ha creato veramente tantissime linee per cercare di andare incontro un po' ai gusti di tutte noi donne e oggi appunto vi voglio mostrare quello che mi hanno gentilmente prestato, dico prestato perché poi queste cose non sono mie, le darò indietro. Sapete che io sono sempre sincera, quindi anche in questo caso vi dico che non sono di mio possesso, però sono contenta comunque di averle ricevute per mostrarvele perché appunto essendo un marchio che non conoscevo devo dire che sono stata piacevolmente sorpresa, soprattutto dai materiali che utilizzano perché appunto non sono gioielli, sono bijoux, quindi c'è molta differenza perché non utilizzano metalli preziosissimi, però penso che per noi giovani siano un po' più versatili, quindi da utilizzare un po' in tutte le occasioni. Ho deciso di non mostrarveli qua direttamente perché secondo me rendono meglio mostrandoveli appunto da più vicino, quindi io vi lascio al video, spero che vi piacciono. Qua sotto fatemi sapere se conoscevate questo marchio, se no cosa vi piace e cosa non vi piace e poi comunque più in là vi mostrerò anche alcune cosine che mi invieranno invece in questo caso da tenere e da utilizzare così vi potrò anche fare una review un po' più dettagliata, quindi vi potrò dire se i materiali sono resistenti, se si rovinano col tempo, con l'utilizzo e avrete ancora più notizie. In questo caso si tratta di preview, quindi a voi la buona visione e ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!